Sicuramente sono molto contento, ringrazio il misto di apposità che mi ha dato, è stata una bellissima emozione, poi penso che abbiamo fatto una buonissima partita contro una delle squadre più forti del campionato, abbiamo ottenuto un punto importante che ci dà morale per la classifica. Il tuo scritto sull'arena, trovarsi davanti a 9.000 persone, anche se te hai una certa esperienza, però che effetto ti ha fatto? No, è stata un'emozione bellissima, poi sono fantastici i tifosi, però una volta dopo ho entrato in campo sicuramente mi è passato tutto, però sicuramente è stata un'emozione grandissima. La tua intesa con i tuoi compagni di avventure, come sta andando, come si è inserito? Sì, dal primo giorno mi sono trovato benissimo, sia con i compagni, con lo staff e con il mister, penso che è un gran gruppo, è anche una grande squadra e continuiamo così. Senti, è un po' come essere questo gruppo, ma mi sembra insomma che ha giocato una squadra unita che quando non è arrivato, non abbiamo ragazzi, ci troviamo, no, ci troviamo una situazione difficile, non è sicuramente. Quindi avendo un po' un'esperienza, cosa serve, diciamo, cosa manca ora per fare quel santimo alla squadra per arrivare all'agoniata? Io penso che comunque da quando sono arrivato abbiamo fatto tutte ottime prestazioni, sicuramente ci manca forse un po' di cattiveria negli ultimi 15 metri, però penso che la squadra è sempre stata, non intendo che in queste cinque partite sono arrivato, è sempre stata, non dico superiore, ma sempre posto il proprio gioco contro tutti, anche su campi difficili, contro ottime squadre. Senti, tu loro, cioè sei un giocatore che ha accettato, mi sembra che a Manto ha giocato più ruoli, no? Sì. E oggi sulla carta hai scoperto un ruolo in mezzo a destra e diverso, ma oggi in realtà deve essere una famiglia. Sì, sei un ruolo che ha fatto tante volte e un ruolo che ha fatto di più, o mi ricordo che a Manto ha fatto un ruolo che ha fatto un ruolo che ha fatto di più? Sì, penso che comunque, penso che, perché noi a Manto giochiamo comunque a centrocampo te e mezza alla sinistra è quello che mi trovo meglio. Sì, sì. Grazie. 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 Grazie.